Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve e bentornato su Fusion. Oggi dedichiamo un intero tutorial alla creazione di gradienti, ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare, quindi i gradienti all'interno della Fusion Page. Come detto nell'introduzione, oggi parliamo di gradienti. Ci concentriamo quindi sulla modalità di creazione di un gradiente all'interno di Fusion. Che cos'è un gradiente? Non è altro che una transizione graduale tra un colore e un altro, ma vediamo come creare un gradiente e quali sono le modalità per customizzarlo. Allora, siccome abbiamo la Fusion Page vuota, dobbiamo andarci a creare un node editor, quindi andiamo sulla Edit Page, ci creiamo una timeline, quindi File, New Timeline, facciamo Create, qui andiamo a creare una Fusion Composition, quindi apriamo Effect Library, andiamo dentro Effect e prendiamo Fusion Composition. Adesso possiamo andare sulla Fusion Page. Troviamo il nostro nodo di Media Out, prendiamo un background e lo portiamo sul Node Editor. Colleghiamo l'uscita di background all'ingresso di Media Out. Bene, adesso ci concentriamo unicamente sul Viewer 2, selezioniamo il Media Out e premiamo 2. Attualmente noi vediamo un background nero. Se voglio scegliere un gradiente vado a scegliere Gradient e all'interno noi troviamo varie tipologie di gradiente. Quella di default è lineare, cioè si parte da un punto di Start, che è questo, a un punto di arrivo di End, che è questo. Allora io posso modificare i punti di Start e di End in due maniere. Il primo è andare a utilizzare il Viewer, prendendo il punto evidenziato in rosso, che è quello selezionato, e trascinandolo nella posizione desiderata. Quindi lo posso spostare in qualsiasi direzione. Stessa cosa posso fare chiaramente con l'End, lo seleziono e lo sposto. L'altro modo è utilizzare le coordinate direttamente nell'Inspector. Quindi se io mi voglio spostare lungo l'asse delle X, ecco che lo posso fare direttamente dall'Inspector. Già possiamo vedere cosa sta succedendo. Cioè se io mi sposto col punto di Start e mi avvicino al punto di End, il gradiente partirà dal punto di Start. Tutto quello che c'è prima non influenza il gradiente. Infatti qua vedrò un colore a tinta unita che corrisponde al colore di Start. Fate conto di avere un'animazione sul gradiente. Il gradiente funzionerà solamente in questo intervallo. Partirà dal colore di Start e arriverà al colore di End. Ma qual è il colore di Start? Il colore di Start è quello identificato da questo triangolo sulla Gradient Color Bar. Attualmente su questo triangolo ho selezionato il nero e sul triangolo che corrisponde all'End è selezionato il bianco. Quindi se io ad esempio voglio un grigio, seleziono il mio triangolo, vado a prendere il colore e mi vado a portare ad esempio verso un grigio. Faccio OK. Vedete che adesso il gradiente è più morbido verso i grigi. Io posso anche spostare il colore non dal punto di Start ma in un punto intermedio tra lo Start e l'End. Cioè se io prendo il mio nero e lo sposto in un punto più avanti, il nero verrà confermato fino a quel punto. Cioè qui sono ancora sotto gradiente ma in realtà qui non fa niente perché qua non ho stabilito nessun altro colore. Se io ad esempio vado qui e clicco sul più, come potete vedere qui dall'inspector, cioè mi creo un altro punto, quindi un altro keyframe sul gradiente e mi vado a scegliere un altro colore. Supponiamo di scegliere un grigio qui. Ecco che il passaggio sarà da un grigio al nero in gradiente e poi ancora in gradiente dal nero verso il grigio. Se io mi sposto con questo punto centrale vedete che verrà spostato il punto di nero quindi qui ci sarà un passaggio più morbido da questo punto a questo punto e qua sarà un po' più veloce perché la distanza è più breve. Se voglio cancellare uno di questi color stop, come vengono chiamati, lo prendo e lo trascino immediatamente sopra la color bar. Viene automaticamente cancellato, adesso riprendo il mio punto e lo porto all'inizio. Attenzione, modificare questa posizione non equivale a modificare questa, anche se il risultato può essere più o meno simile, perché questa modifica l'inizio con la fine della modalità gradiente. Quindi tutto quello che sta al di fuori di questo intervallo non sarà mai influenzato dal gradiente. Questo invece mi va a modificare la posizione del colore all'interno dell'intervallo gradiente. Quindi se anche io modifico questa posizione, questa parte qua può essere ancora influenzata dal gradiente. Basta andare a mettere un altro colore qui all'interno. Questo è un gradiente, questo è un colore solido, in quanto è fuori dall'intervallo del gradiente. Andiamo a cambiare modalità. Abbiamo visto una modalità lineare, cioè si va da un punto a un altro linearmente. In questo caso è una linearità in orizzontale, però io la posso creare con qualsiasi direzionalità. Facciamo un esempio di questo tipo. Io prendo il mio intervallo start, lo porto qua e porto l'end un po' più vicino. Cioè il mio gradiente adesso è concentrato su quest'area qui. Tutto quello che sta di qua e di qua non è gradiente. Questo è modalità lineare. Se vado in reflect io avrò un mirroring sul punto di start. Avrò un gradiente anche nella parte al di fuori dell'intervallo. È come se avessi ribaltato questo intervallo a 180 gradi. Quindi ho lo stesso gradiente specchiato dalla parte opposta. Modificando il punto di start vedete che mi cambia la larghezza chiaramente del gradiente perché diminuisce la distanza tra start e end. Al di fuori di questo mirroring non ci sarà gradiente. L'altra modalità è square. Se io sposto la x che si sposterà il pattern è chiaramente diminuirà la larghezza del quadrato perché diminuisce l'intervallo. Ma se mi sposto col colore aumenterà la presenza del nero. Man mano che si avvicina verso la fine aumenta l'area di nero in quadrato quindi in simmetria sul punto di start e il gradiente sarà solamente concentrato su questo intervallo. Cioè tra questo e questo. Se da square passo invece a cross il pattern non è più di tipo quadrato ma è affatto a forma di croce. Se torno indietro la possiamo vedere bene. Man mano che mi allargo chiaramente il nero prende sempre più forza mantenendo un pattern a croce in simmetria sul punto di start. Diciamo che il comportamento di square e cross sono abbastanza simili solo che uno ha una forma quadrata l'altro ha una forma a croce. Radiale invece può essere una cosa molto interessante. Proviamo a portarci all'inizio. Il segmento non è più un segmento ma in realtà è un raggio. Cioè il gradiente avviene in modalità radiale dal punto di start al punto di end indipendentemente dall'angolo. Quindi si muove in tutte le direzioni a 360 gradi. Chiaramente aumentando la forza del nero prende più forza il nero. Se aumento il bianco prende più forza il bianco all'interno del frame. E il gradiente si riduce perché sto riducendo come al solito l'intervallo. Tenete presente che tutti questi parametri sono animabili. Quindi già a partire da un gradiente posso già ottenere delle animazioni di background molto interessanti. Se adesso vado in angle è abbastanza intuitivo in quanto si ha un passaggio in senso anti-orario dal colore di start al colore di end. dove il colore di start è il nero si passa a un grigio fino a passare a una bianco. Se io adesso mi sposto con il punto di end posso, vedete, modificare l'andamento del gradiente angolare. Ritorniamo sul nostro gradiente lineare di base e guardiamo gli altri parametri di personalizzazione. Allora, i colori io li posso modificare direttamente dall'inspector quindi variando e modificando la sua opacità. Cioè se io prendo ad esempio il bianco e voglio cambiargli l'opacità prendo il valore di opacità questa barra e la porto verso l'alto vedete che aumentano le aree di trasparenza data da questa scacchiera oppure diminuisco il canale alfa direttamente dal suo valore. Posso andare ad agire sui parametri RGB quindi se tolgo il rosso chiaramente avrò completamente un ciano sui miei colori se tolgo il verde avrò magenta se tolgo il blu avrò un giallo. Posso andare a scegliere su che spazio colore agisce l'interpolazione tra i pixel noi selezioniamo l'RGB l'offset come lavora? L'offset è semplicemente uno spostamento del punto di inizio del gradiente rispetto allo start quindi se io mi sposto in avanti vedete lui va avanti rispetto allo start se torno indietro lui torna indietro. Se voglio resettare l'offset vado a prendere come per tutti i parametri modificati questo puntino in basso che sta a identificare la modifica del parametro ci clicco e viene resettato. Il repeat può essere interessante soprattutto per creare dei pattern allora se io ad esempio prendo il mio x lo porto qua e l'end lo porto qui vedete che qui non ho nessuna ripetizione in lineare se vado a fare un repeat questo pattern viene replicato in continuo e animando l'offset mi posso creare vedete un pattern dinamico di questo tipo però io posso lavorare anche in rimbalzo ripetere il pattern una volta e poi tornare indietro poi ripartire e poi tornare indietro basta andare a scegliere ping pong vedete direzione in avanti qua è una direzione all'indietro cioè un pattern invertito se vado avanti con l'offset succederà la stessa cosa pattern normale più pattern invertito e così di seguito. Il subpixel ci serve per migliorare quella che è la resa del gradiente mi permette di aumentare la precisione nel calcolo del gradiente si passa da 1x1 al 5x5 5x5 naturalmente è il valore più preciso ma richiederà più tempo per fare il rendering quindi se noto problemi di bordatura sul gradiente le metto 5x5 però metto in conto dei calcoli più complessi specialmente quando ho delle animazioni di gradiente o dei repeat fatti in questo modo. All'interno delle tipologie di background ho anche alcuni preset di gradiente ho un gradiente orizzontale adesso lo fissiamo ad esempio con un bianco, un colore per vederlo meglio è un preset semplicemente lineare come se avessi un gradiente lineare da sinistra verso destra non ho altre possibilità di modificare le direzioni ma posso chiaramente modificare in tutte le maniere il colore di sinistra e il colore di destra stessa cosa se vado a scegliere il preset verticale quindi che agisce in questa direzione invece il four corner può essere molto utile quando mi voglio creare un gradiente che ha 4 colori differenti a seconda degli angoli cioè se io ad esempio passo da un top left bianco poi a un top right lo scelgo sul giallo poi scendo il bottom left lo vado a prendere, mettiamo sul grigio quindi qui il passaggio dal bianco al grigio e qua ad esempio il passaggio lo possiamo fare verso l'orange sull'ultimo colore quindi mi vado a scegliere ad esempio un orange e vedete che ho 4 colori differenti a livello di gradiente direi che abbiamo fatto una panoramica generale sul gradiente ci sarebbe da dire qualcosa in più perché all'interno del gradiente noi abbiamo anche dei menu contestuali con tutta una serie di opzioni dedicate appunto al gradiente ma su questa cosa poi ci ritorneremo più avanti quando ci serviranno questi settaggi se hai delle domande sulla creazione di un gradiente all'interno della Fusion Page ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di Impara da Vinci Resolve e a sabato per continuare la formazione su Fusion